Aumenta il traffico sulle strade che portano al mare soprattutto nei weekend e, in risposta, si intensificano i controlli a luglio ed agosto nel pontino da parte degli agenti della Polizia Stradale di Latina, insieme a quelli dei distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia. Le tratte più attenzionate sono la Pontina, l'Appia, la Montilepini e la Flacca. Abbiamo già constatato fin dai primi weekend, gli ultimi weekend di giugno e i primi weekend di luglio, un incremento notevole del traffico, soprattutto quello da riporto e ovviamente soprattutto in corrispondenza dei fine settimana, dalla capitale verso le località costiere, quindi in misura maggiore Sabautia, Circeo, Terracina e Formia e anche ovviamente le provenienze dal sud, dalla provincia di Caserta, in direzione di Formia e Gaeta. Ripeto, soprattutto il venerdì sera, sabato mattina, sabato un po' tutta la giornata e soprattutto la domenica sera, perché molti sono i cosiddetti pendolari del weekend, quindi magari si fanno una giornata intera o massimo il weekend al mare e poi ritornano e purtroppo si creano degli incolonamenti perché poi più o meno gli orari di rientro sono gli stessi. Diversi sono i consigli della polizia, come evitare di mettersi in auto durante le ore più calde della giornata, bere acqua durante il viaggio per idratarsi, così da evitare i colpi di calore. Evitare di bere alcolici, di rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza, non utilizzare il telefono cellulare, i sistemi di ritenuta che in questi giorni proprio stiamo avendo un focus su questo tipo di controlli, sia per i posti anteriori, sia per quelli posteriori perché alcuni ancora pensano che non vi sia l'obbligo dei siti posteriori e soprattutto i sistemi di ritenuta per i bambini. Abbiamo constatato, ahimè, che alcuni genitori, pur indossando la cintura, però si dimenticano di farla indossare ai propri figli o di fargli utilizzare il seggiorino, cosa molto molto pericolosa. E durante i controlli diverse le irregolarità già emerse. Nella zona, la parte sud in particolare della provincia, sono state riscontrate parecchie autovetture prive di revisione, prive di assicurazione. Poi c'è stato anche il lockdown, quindi probabilmente c'è stata anche la possibilità di far slittare fino a fine ottobre l'obbligo delle revisioni. Però il discorso insomma della mancanza di assicurazione o problematiche di questo genere mi suscitano una certa preoccupazione.